presentiamo oggi mt07 mt09 due regine del mercato italiano svariati prodotti sono disponibili per la piccola e la grande della casa di vata partendo dalla cartuccia andriani regolabile in compressione estensione precarico della molla al mono ammortizzatore è un 46 dr con la possibilità di registrare la precarica delle molle e il freno di estensione un grosso successo per le mt07 mt09 è lo scarico termignoni che vedete nelle due configurazioni nella versione con collettore cromato e nella versione black edition presente sulle mt09 i due scarichi sono omologati euro 4 hanno db killer estraibile e catalizzatore le prestazioni sono notevoli offrono maggior coppia e maggior potenza inoltre per la mt09 abbiamo disponibile un ammortizzatore di sterzo holins pluriregolabile con un relativo kit attacchi andriani plug and play pertanto senza nessuna modifica che renderà la vostra moto molto più stabile attrazione